5 colori di frutta e verdura, nutrirsi per e con la vita. Siamo presso la sede della stampa estera a Roma per rappresentare la nuova campagna Una Proa, valida per il triennio 15-18. Siamo in compagnia dello chef Irohiko che ci interpreta una ricetta con il colore giallo della frutta. Allora Irohiko, che cosa hai pensato per noi? Secondo me, ormai io vivo per dieci anni in Italia, diciamo che è un paese molto solare, quindi in questo momento, in questo caso, ho scelto la frutta matura, colore giallo e arancio. E per utilizzare, per consumare questa frutta, ho creato un po' di contorasto, ho messo un po' di tocco di stagionatura, per esempio ingredienti stagionati, salà, per esempio uova di sarmone per dare sapidità, questa combinazione acidità, d'orgezza e un tocco di sale, la freschezza. Ho cercato un gioco, diciamo, un giochettino di piatto. Questa è una cosa molto bella, i fortunati giornalisti che sono qui oggi avranno l'opportunità di assaggiare, ma dove ti troviamo se non sei qui alla sede della stampa estera a Irohiko? Dove ti possiamo trovare? Di solito io lavoro con la televisione, quindi in questo momento solo lavoro in scuola o pre-televisione, quindi in questo momento non si può mangiare, magari venite a casa mia. Questo mi sembra ottimo, che cosa puoi dire invece della cucina italiana, che sicuramente stando da 10 anni in Italia conosci? Ovviamente sì, ho già seguito da 19 anni, quindi adesso io continuo a seguire la cucina italiana per 20 anni, quindi io so molto bene la storia, la cultura, l'alimentazione italiana. In questo momento anche noi dobbiamo pensare più global, diciamo, più internazionale, dobbiamo toccare l'alimentazione per la prossima generazione, ai bambini specialmente. E quindi questo, diciamo, che questo evento veramente ho imparato, ho studiato tante cose comunque per creare questo piatto. Ovviamente i bambini non mangiano la verdura cruda specialmente, quindi ho messo tanta fantasia dentro. Senti, l'ultima cosa, la vera differenza che c'è tra la cucina giapponese e quella italiana, dimmene una almeno. Senso? Qual è la più leggera tra le due cucine? Differenza tra Italia e Giappone nell'alimento? Dai, una, almeno una. Questa è no, 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 c'è tutti e due uguali, diciamo. A me, la mia filosofia è così, anche ma profondiamo l'alimentazione e la cultura, fino alla fine stiamo utilizzando, diciamo che in maniera trattamento di cibi, tutto il mondo è uguale, sono diverso prodotto. E quindi, per esempio, in Italia, pieno di prodotto italiano, quindi fa cottura, cuocere, bollire e diventa la cucina italiana. Per esempio, un prodotto, utilizziamo un prodotto giapponese, diventa ovviamente la cucina giapponese, quindi uguale è pesante, leggero, ma... È chiarissimo, Eurico è stato molto in gamba, grazie e ti lasciamo naturalmente alla degustazione. Grazie. Ciao.